Papà, papà, patatine. Queste le prime parole, che Luna Mari dice al papà Antonino Spinalbese, al suo risveglio, ma il papà sempre molto protettivo nei suoi confronti, le dice che è un po' presto per quella richiesta. È stato proprio un bel risveglio, Antonino Spinalbese questa mattina. Sì, perché il nostro Antonino ha iniziato la giornata con una gioia palpabile, proprio accanto alla sua adorata Luna Mari. Le effusioni e gli sorrisi che fa Luna Mari al suo papà sono veramente affascinanti, con tanto amore, dopo avere passato insieme l'ultimo weekend, ed avere rafforzato ancora di più, quell'amore che li lega, ed ha reso, ancora più speciale il legame tra padre e figlia. E guarda che amore quando Luna Mari, appena sveglia, ha rivolto un dolce saluto al suo papà. Si sente davvero un legame immenso, tra di loro. La giornata, si preannuncia ricca di momenti preziosi, e chissà cosa riserverà il destino per questa affettuosa coppia. Siamo tutti curiosi di scoprire i prossimi capitoli della loro vita. La connessione tra Antonino e Luna, è davvero un esempio di legame familiare forte, e positivo. Mette in luce quanto siano importanti i momenti trascorsi insieme, e quanto la reciproca felicità, si rifletta nei gesti più semplici. Che bello, poter condividere questi momenti, di gioia e affetto, se vuoi scoprirli con noi giorno per giorno, iscriviti al canale, e lascia un tuo mi piace.